Ciao ragazzi, come state? Avete partecipato al giveaway di GHD, GHD on the go? Avete veramente pochissime ore ancora per partecipare e ora vi spiego come fare. Per partecipare dovrete commentare sotto il mio post che vi lascio più avanti con l'hashtag GHD on the go e dovrete taggare due amiche. Mi raccomando, sia voi le vostre amiche dovrete seguire su Instagram GHD Italia. In palio vi ricordo che ci sono 4 kit bellissimi GHD dal valore di più di 500€. All'interno troverete la GHD Unplugged personalizzabile nera o bianca, il GHD Helios asciugacapelli personalizzabile, la GHD Paddle Brush Travel Size e infine la GHD Bodyguard Spray termoprotettore Travel Size. Per realizzare questo splendido look ho asciugato i capelli con il GHD Helios che li lascia senza effetto crespo e ho utilizzato anche la GHD Unplugged che ho anche inserito nella mia borsetta così se sono fuori devo sistemare. Qualcosina lo posso fare anche on the go. Mi raccomando avete tempo fino a questa sera per partecipare, vi ho lasciato il post nella prossima storia, mi raccomando partecipate e vi auguro anche una buona fortuna. Un bacione, ciao!